Politiche, istituzioni e parti sociali del Nord Sardegna tornano a incontrarsi a Sassari per riaffrontare il tema della chimica verde. L'appuntamento è per lunedì mattina, dalle 9 al Teatro Comunale in Viale Trieste, con i consigli comunali di Sassari e Porto Torres riuniti in un'assemblea aperta, alla quale sono state convocate anche tutte le altre 89 rappresentanze cittadine della vecchia provincia. A questi si aggiungerà il TIPS, il Tavolo Istituzionale e Parti Sociali per lo Sviluppo del Nord Sardegna, convocato dal commissario straordinario della provincia Pietrino Fois. L'invito è stato inoltre recapitato ai consiglieri regionali e parlamentari del territorio e ha annunciato la sua presenza anche il presidente della regione, Cristian Solinas. Tutti riuniti per fare il punto sullo stato del progetto della chimica verde a Porto Torres e degli investimenti industriali promessi e mai realizzati dopo il protocollo d'intesa siglato nel 2011. Un tassello ritenuto da tutti fondamentale per un piano complessivo di rilancio del Nord-Ovest, anche tenendo conto delle opportunità offerte dagli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.